Nessuno come l'Ital Service, terzo scudetto per il futsal pesarese. Segnalazione di scarica abusiva in zona torraccia. Mostra del cinema, grande successo di pubblico. Novità d'estate, animazioni per bambini in piazzale d'annunzio. Francesco Guccini diventa cittadino onorario di Mondolfo. Buona serata cari amici e amiche di Rossini TV. Per questa nuova edizione del Rossini News, telegiornale di lunedì 27 di giugno. Con copertina che dedichiamo eccezionalmente allo sport. Perché ha davvero dell'eccezionale il terzo scudetto consecutivo ottenuto dall'Ital Service sabato contro la Fed di Eboli. Vediamo quello che ha ottenuto in questo primo servizio. Immensa, insaziabile, inossidabile. Ormai sono finiti gli aggettivi per l'Ital Service Pesaro, che per la terza volta consecutiva si è laureata campione d'Italia di calcio a 5. Terzo scudetto per il futsal pesarese in una dittatura inattaccabile anche dagli stop and go da pandemia. Anzi, il 2021-2022 rafforza pure l'egemonia di una stagione da triplete, irrobustita pure dall'aver messo in bacheca Coppa Italia e Supercoppa. L'ultimo trofeo è stato alzato al cielo sabato sera in una spettacolare gara 3 di scudetto con la Fed di Eboli. Campani che avevano iniziato la serie accarezzando un sogno per poi essere riportati sulla terra da Tony Dandèle e compagni. E la Feldì ha sognato concretamente anche nella bella di sabato, giocando una grande gara che per tre volte l'ha portata a mettere il muso avanti, andando in vantaggio prima con Selusio, poi con Calderogli e Luisigno, riacciuffati puntualmente dalle reti di Onorio e dalla doppietta di Taborda. 3-3 è il primo vantaggio dell'Ital Service a 18 minuti dalla ripresa e quello di Bolo ed è quello che vale il 4-3 e il terzo scudetto. Un terzo titolo che chiude il ciclo di una squadra che sarà rivoluzionata a causa del cambio di regolamento in merito ai tesseramenti nel calcio a 5 nazionale. Oggi era quasi andato, ma era quasi andata la Coppa Italia. Diciamo che il destino ha aiutato un po' questa squadra leggendaria che finirà oggi con molte partenze e gli ha dato una piccola mano per chiudere con una straordinaria settima trofeo consecutivo che è il record europeo. Vincere tre scudetti di fila, questa squadra adesso ha fatto la storia del calcio a 5 in Italia e devo fare solo i complimenti a tutti i ragazzi, al Presidente che ha investito e ha fatto questa squadra. Ringraziare tutti loro, è una felicità immensa. Una partita un po' difficile però stasera. Sapevamo che era molto difficile, loro sono una squadra molto forte però alla fine questi ragazzi vengono fuori e la qualità loro alla fine sempre viene fuori. Io ero tranquillo, il pubblico un po' di meno però io ero tranquillo perché sapevo, ero consapevo che avevo questi campioni a fianco a me. Futuro del capitano? Io resto qua, io resto qua. Qualcuno va via perché c'è la riforma purtroppo, però io resto qua e resterò fino alla morte qua. Questa è un'emozione allucinante, immensa. Io non ci credevo, ti dico la verità, quindi questa è una squadra che non finisce mai di stupirci. Cioè ci dà delle gioie inimmaginabili, immense. Peccato che una parte di questa squadra per questa regola demenziale deve andare via. Però intanto ci siamo goduti questa serata meravigliosa davanti a 2000 persone, quindi è un'emozione fortissima. È stata una partita molto concitata fino all'ultimo col psichiatto sospeso. Sì, bisogna fare grandissimi complimenti a Eboli perché ha veramente giocato bene, quindi grandi complimenti. Hanno impostato benissimo la partita, l'hanno preparata molto bene, probabilmente anche meglio di noi. Sono arrivati molto concentrati, però questa è una squadra che ha sempre qualcosa in più. Io non so se è la forza di Colini, la forza di Taborda, la forza di Onore, forse tutti insieme. Cioè vincere una partita così senza Borrutto, penso che sia qualcosa di epico. Allora l'Ele Mora ha portato davvero fortuna. Quando io ci sono si vince. Ho visto che ha fatto il tifo. Erano, diciamo, per essere sinceri, superiori bianchi stasera. Però forse i rossi erano un po' stanchi. Però devo dire che poi l'ora della fine col tifo sono andati, sono caricati. Assessore, terzo scudetto per questa squadra in Serie A. Ha un orgoglio per tutta Pesaro. Un bel risultato per la nostra città è stata una partita a Cardiopalma. Perché noi ci credevamo su questo risultato e la squadra se lo meritava. E se lo meritava il presidente per quello che ha investito nel calcio a 5 a Pesaro. Ed ora spazzo alle vostre segnalazioni, in particolare una che ci è arrivata oggi, questa mattina, per quanto riguarda un casolare abbandonato in zona torracce che si è trasformato in una discarica abusiva. Vediamo. Alla maleducazione e all'inciviltà non c'è mai fine. E vedere certe immagini nel 2022, con tutti i problemi legati all'ambiente che già ben dovremmo conoscere, ci dovrebbe far domandare, per quanto tempo ancora non vogliamo rispettare la natura? Ci troviamo oggi in zona torracce, in via Teodoro Serafini, dove a fianco del centro commerciale è presente un casolare abbandonato, che dal diverso tempo sembra essersi trasformato in un perfetto contenitore di spazzatura. Un'area che quotidianamente viene frequentata da centinaia di persone, vista la presenza di supermercati come Eurospine, Acqua e Sapone, ma nonostante questo il menefreghismo di alcuni cittadini continua a prevalere. A seguito di una segnalazione arrivata da un telespettatore, all'interno della casa rurale abbiamo potuto notare una vera discarica abusiva. Ruote, sedie, lattine, bottiglie di birra, valigie e plastica in ogni sua forma e colore. Gran parte dell'immondizia è a mucchiate sparse tra il giardino esterno e l'interno dell'abitazione, mentre alcuni bivacchi e altri generi di rifiuti si trovano addirittura lungo il marciapiede pubblico. Un casolare silente e disabitato di giorno, ma che forse di notte si trasforma in un alloggio per i senza dimora, tra la sporcizza e la pericolosità di un edificio che sembrerebbe essere di proprietà privata. Questo caso è l'ennesimo nella città di Pesaro che richiederebbe l'intervento delle autorità competenti per cercare di ripulire e dare ordine ad un luogo che di pulizia e di ordine non ha mai sentito parlare. E le immagini che vi mostriamo ora fanno riferimento ad un intervento avvenuto nella giornata di domenica da parte dei vigili del fuoco e della polizia locale, effettuato appunto ieri mattina in merito alla segnalazione di una pericolosa caduta d'intonaco dal ponte ferroviario che sovrasta all'incrocio semaforico fra via Nino Bixio e via Vincenzo Rossi. I vigili del fuoco hanno verbalizzato il cedimento mettendo in sicurezza l'area, ma dopo approfondite verifiche non sono state rilevate criticità all'attraversamento veicolare e alla stabilità del ponte. Il leader del movimento Io Apro, Umberto Carriera, sarà a processo venerdì mattina al Tribunale di Pesaro dove rischia fino a 5 anni di carcere. È quanto annunciato dallo stesso Carriera attraverso un post su Facebook in cui scrive Venerdì andremo a processo perché filmare con il telefonino 20 agenti che fanno irruzione nel tuo ristorante vuoto alle 23 del 15 gennaio 2021, come se stessimo trafficando degli organi o spacciando, avrebbe offeso uno dei capi della Digos, che per questo si è sentito in dovere di denunciarmi. Andremo a processo al Tribunale di Pesaro, lo stesso che qualche mese fa per quella stessa cedimento cena, ha stracciato i DPCM di Conte e cancellato tutte le multe che mi avevano fino allora combinato. Rischiamo fino a 5 anni di carcere ma continuiamo a credere nella giustizia. E un 43enne di Marotte è stato arrestato per stalking, atti persecutori e danneggiamento nei confronti della ex compagna. Un arresto aggravato dalla recidiva, visto che nel 2012 l'uomo era finito in manette per analoghi reati ed era stato sottoposto più volte ad accertamento sanitario obbligatorio. Il 43enne alternava escalation di violenza dovute all'abuso di alcol a momenti di calma e lucidità che gli permettevano ogni volta di essere dimesso dalle strutture in cui veniva ricoverato. L'epilogo si è avuto in questo mese quando l'uomo ha più volte minacciato e molestato la ex, presentandosi sotto casi in evidente stato di ebrezza alcolica, urlando frasi offensive e danneggiando il portone d'ingresso dell'edificio, le cassette delle lettere e il garage. Dopo la denuncia ai carabinieri l'uomo è stato arrestato per stalking e danneggiamento. Dopo un lungo stop causato dalla pandemia la Banca di Pesaro è tornata ad organizzare convegni, infatti lo ha fatto questo weekend negli spazi del ristorante Mediterraneo di Fano con un focus di particolare attenzione per i risparmiatori. Vediamo. Finalmente siamo tornati in presenza a fare i convegni, erano due anni, anzi forse anche abbondanti, che non si riusciva più a incontrare direttamente i nostri clienti, tutti i nostri principali clienti. Affronteremo questa sera un tema molto importante che è quello della finanza, soprattutto in questo particolare momento storico che stiamo vivendo. L'argomento principale sarà sicuramente come affrontare il mercato e come affrontare in questo momento questo periodo particolare in cui i mercati sono tra virgolette particolarmente nervosi dovuti soprattutto a delle crisi sia geopolitiche di non poco conto. Usciamo da un periodo abbastanza impegnativo che è quello di una pandemia che ha colpito forte in un po' tutti e anche specialmente anche le famiglie, anche umanamente questo ci ha segnato. Però i mercati hanno sempre qualcosa da dire, qualcosa da rappresentare. Quello che mi sento di dire è chiaramente affidarsi sempre a persone esperte, professionalmente preparate e questo mi sento di dire che Banca di Pesaro ha al suo interno persone veramente preparate che possono accompagnare di nuovo ad investire in maniera corretta i risparmi che ognuno di noi faticosamente mette da parte. Siamo qui per affrontare oggi un argomento estremamente importante che è la gestione dei propri risparmi, la gestione degli investimenti in questo momento particolarmente complesso, complesso perché funestato da una serie di situazioni come sentiamo spesso parlare del tema inflazionistico, sentiamo dei problemi di natura geopolitica e sentiamo quindi parlare come conseguenza di importanti correzioni che avvengono sui mercati finanziari, sia sul comparto azionario che sul comparto obbligazionario. Siamo qui oggi a discutere su quanto importante sia capire che anche in questi momenti bisogna tenere la barra dritta e quindi capire il metodo, il metodo che è importante seguire nella gestione dei propri risparmi, a prescindere dalle situazioni contingenti che si manifestano. Condivideremo una serie di concetti, una serie soprattutto di numeri per dare un risvolto oggettivo al tema di oggi, quindi un incontro importante, importante per il territorio, importante per le persone che in questo momento evidentemente stanno vivendo una fase sul piano emotivo abbastanza difficile. Ed è stata una cinquantottesima mostra del cinema di Pesaro nel segno di una ripartenza di slancio. Tante proiezioni di qualità, tantissimo apprezzamento di pubblico, rivelatosi superiore all'ultima edizione pre-covid del 2019. E' stato il cortometraggio francese di Noé Grenier, Les images qui vont suivre non jamais existent, ad aggiudicarsi il premio Pesaro Nuovo Cinema della cinquantottesima edizione del Pesaro Film Festival. Un riconoscimento assegnato dalla giuria composta dall'attore italiano Tommaso Ragno, dalla regista portoghese Rita Acevedo Gomez e dal regista spagnolo Carlos Casas. Un riconoscimento che spicca fra i tanti premi assegnati da una mostra internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, che vede il vero vincitore nell'appassionato riscontro di pubblico. Un pubblico peserese più numeroso dell'edizione 2019, ovvero l'ultima pre-covid. Un pubblico attento ad ogni sfaccettatura, dalle produzioni di nicchia ai grandi ospiti come Abel Ferrara, Giancarlo Giannini, Tommaso Ragno e Mario Martone. Abbiamo proposto tanti contenuti, tanti film, tanti incontri e devo dire che siamo stati accolti da un pubblico non solo soddisfatto, ma veramente numerosissimo, senza più il distanziamento, senza più le mascherine. Quindi è stato quello che speravamo, c'è una grandissima festa di Cina, una grandissima festa per la città, una grandissima festa per le tante persone che sono venute a Pesaro per il nostro festival. È stata una settimana di grandissima partecipazione di pubblico, di grandissima qualità della manifestazione, un pubblico che è ritornato non solo numeroso, ma caldo, appassionato e comunque caldo era anche in generale, a parte il condizionamento dello sperimentale, ma veramente è una edizione credo da ricordare, da incornisare. Quindi siamo molto felici e la conclusione con uno dei registi più importanti al mondo, premiati questa sera, penso che sarà la degna conclusione appunto di una grande cinquantottesima edizione. Il pubblico è accorso numeroso a tutte le proiezioni, soprattutto a quella a cui tenevo molto con Martone in persona, un sabato pomeriggio di giugno, il teatro sperimentale per morte di un matematico napoletano che il suo primo film, in una copia restaurata molto bella, era una sala talmente piena che lui stesso quando è entrato ci è rimasto, diciamo è rimasto colpito e ha ringraziato subito il pubblico che è partito un grandissimo applauso ancora prima di annunciarlo in sala. Sono molto legato a Pesaro, sono stato qui tante volte con il ROF per mettere in scena le opere di Rossini, è il Festival del Cinema di Pesaro, è un festival che è nel cuore dei cinefili di tutta Europa, di tutto il mondo si può dire e quindi essere premiato qui, avere l'onore di una retrospettiva qui è una grande gioia, avere un applauso come quello che mi ha tributato generosamente la piazza è bellissimo. E vi ricordiamo che giovedì 30 giugno Rossini TV trasmetterà alle ore 20.10 sul canale 80 uno speciale d'approfondimento dedicato proprio alla serata conclusiva della 58esima mostra del cinema di Pesaro. Ora invece parliamo del maestro, cantautore e poeta Francesco Guccini che da questo weekend è diventato ufficialmente un cittadino onorario di Mondolfo. Vediamo Da parte della piazza di Mondolfo di questa sera Onorato di essere cittadino di questo splendido luogo Parole di Francesco Guccini che da anni era abituale frequentatore della Val Cesano ma che da sabato sera è diventato ufficialmente cittadino onorario di Mondolfo fra l'applauso di una piazza delle comune che per l'occasione ha radunato oltre mille persone in standing ovation. Ad 11 anni dal matrimonio di Guccini con la mondolfese Raffaella Zuccheri il maestrone di Pavana ha ricevuto l'abbraccio dei neoconcittadini a stretto giro di posta di un consiglio comunale che ha deliberato l'onorificenza ad un cantautore, poeta e autore che ha fatto la storia della musica e della cultura italiana da sempre porta bandiera di indipendenza di pensiero. Soddisfazione per il sindaco Nicola Barbieri che ha consegnato la targa a Guccini in occasione della prima edizione della rassegna letteraria come un libro all'aperto che sta riscuotendo grande partecipazione e apprezzamento. Un giorno speciale per Mondolfo, un giorno a lungo atteso in cui finalmente abbiamo l'onore e il piacere di conferire la cittadinanza onoraria a Francesco Guccini. Questa mattina durante la seduta del consiglio comunale appositamente convocata abbiamo deliberato unanimemente questo riconoscimento onorifico che sancisce un legame sincero e reciproco del cantautore con il territorio e la comunità. Nell'occasione Guccini ha presentato la sua ultima fatica letteraria, Trecene, l'ultima in vero è un pranzo, dialogando con Sara Zambotti, conduttrice del programma di Radio 2 Caterpillar. Applausi dai mondolfesi ma anche dai fan di Guccini che hanno raggiunto la provincia di Pesaro Urbino dai più disparati angoli d'Italia. Luca Pieri viene riconfermato presidente del consiglio d'amministrazione di Aspes dopo l'assemblea dei soci riunitasi la scorsa settimana. Per Pieri si rinnova dunque un impegno pluriennale della società pubblico-privata che gestisce farmacie comunali, cimiteri, verde pubblico e impianti turistico-sportivi come la Vitri Frigo Arena. E' stato sottoscritto questa mattina a Matera il protocollo d'intesa tra Matera Capitale Europea della Cultura 2019 e la Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024. Si tratta di un'intesa che avvia una collaborazione fra le due realtà nell'ambito del percorso di avvicinamento all'anno di Capitale Italiana della Cultura di Pesaro nel 2024. E dal 30 giugno al 17 luglio Circo il Grito torna a Pesaro con la quarta edizione di Stupor Circus, festival internazionale di circo contemporaneo promosso da Comune e Amat che nelle 22 giornate di spettacolo al Parco Miralfiore offrirà l'occasione a spettatori di tutte le età di conoscere un circo contemporaneo mai visto prima. Primo appuntamento fra poesie e fantasia il 30 giugno, 1, 3 e 4 luglio con L'Uomo Calamita scritto e diretto da Giacomo Costantini. Successo per il Lions Weekend è organizzato da Lions Club Pesaro della Robere a sostegno della lotta contro il tumore al seno. Dopo l'intervista spettacolo a Yvonne Pagliari, autrice dell'opera L'Ombra di una stella condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi ai musei civici, domenica si è tenuta la scorsa Stra Lions i cui proventi sono destinati al Race for the Cure, l'evento simbolo di Susan Komen, la più grande manifestazione per la lotta contro i tumori al seno in Italia e nel mondo. Hanno vinto la staffetta femminile Francesca Palmieri, Sara Scavolini e Natalia Fernandez, mentre per la staffetta maschile Marco Ciamaglia, Andrea Paolini e Cesare Bussetti, sempre della Dynamo Triathlon. Per la staffetta mista si è classificato primo il gruppo podistico di Lucrezia con Andrea Biondi, Stefano Tonelli e Rita Pavone. Triunfa sul podio femminile per la corsa individuale Valeria Baldassarri, mentre a vincere la corsa individuale maschile è stato Francesco Tornati. E alla Pala di Pomodoro serate danzanti e gruppi musicali in piazzale d'annunzio e la novità di animazioni per bambini. Ecco il programma di eventi estivi che animeranno il lungomare sotto il coordinamento organizzativo degli albergatori pesaresi. Vediamo il servizio. Finalmente ripartiamo con una serie di eventi molto interessanti, allegri. Si torna a ballare alla Palla, quindi il luogo della nostra riviera più gettonato per la musica e per il ballo. Partiremo dal 27 di giugno, quindi dal lunedì prossimo, con le più grandi orchestre italiane che verranno qua a Pesaro a suonare, così come i giovedì. Saranno invece dedicati ai gruppi della provincia di Pesaro, ai gruppi pesaresi, delle eccellenze che suonano in Italia e all'estero e le abbiamo riportate a Pesaro per far ascoltare la nostra musica. A queste iniziative quest'anno aggiungiamo anche una cosa molto importante che è il piazzale d'annunzio. Porteremo dell'animazione per bambini, dedicheremo l'intero piazzale alle famiglie, dei turisti, dei pesaresi che vorranno passare delle serate leggere, divertenti e in allegria. Questo partirà dal lunedì 4 luglio fino alla fine di agosto. Tutti i pomeriggi dalle 17 alle 19 avremo dell'animazione per bambini e dalle 20 e 30 in poi avremo varie attività, sia animazione, sia sport, sia danza, quindi coinvolgendo anche diverse realtà del territorio. E questa era l'ultima notizia, prima di salutarci però vi ricordo gli appuntamenti in serata. Questa sera infatti alle ore 21 e 20 c'è l'approfondimento Arte e Scienza, l'energia alternativa e dei raggi infrarossi. E poi a seguire sempre stasera sul canale 80 alle ore 21 e 40 c'è lo speciale realizzato da Rossini TV in merito alla valorizzazione della pesca marchigiana presso l'azienda agricola Renzi Elso a Montelabate. E poi domattina come sempre in diretta alle ore 7 e 20 la nostra rassegna stampa con la lettura dei quotidiani della provincia di Pesero Urbino. E con questo è veramente tutto, vi ringrazio per averci seguito e una buona serata a tutti voi!